Visto che YouTube, vuole video senza parolacce allora ecco tenne uno. Per le persone più grandi c'è le usso la voce, loquendo il proprio protagonista. Odio dire protagonista proprio lui e che cavolo, per i bimbi usso questa vocina da ebete appena laureato nell'università di Checco Zalone. Detto questo facciamo un po' di valdoria. Ecco sta arrivando io non voglio schiattare, no non voglio fare una brutta fine come terminato. Ecco ti pareva ricomincio sempre da capo, adesso mi sono scurciato. Zopro protagonista vai in scena true, io faccio la comparsa così non dovrò più schiattare. E' bello essere tornati dopo tanto tempo, signori adesso cominciano le danze. Ah mi hai mancato, ti farai sparare pezzo di caprone, aiaiaiaio. Non mi sono già stancato, passo la mia parte alla donna più amata del mondo, eccola a Maria De Filippi. E basta, perchè questo pro di sbirro non schiatta, ora uso il mio arsenale. Ho fatto un bel uccellino, che bello ooooh, ora ciucciami sta cosa che non ho e lo sai bene pezzo di meeeeee. OMG, e lui, meglio fare attenzione prima che mi ficca un suo pompa in bocca e lo sapete bene, e non sono l'unica che lo ha preso ma anche il proprio protagonista, siiii. Senti fai molta attenzione a quello che dici, questo è un video per i bimbi quindi, spero tanto che acchiappi quello rompione di pro sbirro terminator della madonna e ti ficca un proiettile super il piiii. Wow, il doppio passo è spettacolare, sento anche i passi del tizio sbirro, ma so come fregare uno sbirro, tanto sono esperto in queste cose. Ecco qua, metto qua, e scappo di la senza fa figu di cà. Aaaaaaah, eccolo è il mio momento non devo sbagliare eeeh, un attimo di silenzio, e cantoom. Arrivederci! Arrivederci!